Birka, città vichinga dell'isola di Björk sul lago Melaren, fu fondata nell'VIII secolo e fu per un lungo periodo il principale centro di scambi commerciali della Svezia. Birka si sviluppò intorno al porto. In una piazza al centro della città, gli abitanti offrivano sacrifici alle divinità. Prima della fine del X secolo, Birka fu abbandonata. Oggi sono ancora visibili i resti delle mura e delle grandi necropoli. La città era difesa da un bastione sormontato da palizzate. Nella baia, una barriera di pali proteggeva le imbarcazioni ormeggiate nel porto. Gli scavi hanno dimostrato che Birka fu costruita secondo un preciso piano urbanistico. Alcune grosse pietre dei muri di cinta e tracce degli steccati sono visibili nelle sezioni stratigrafiche del terreno. Gli edifici erano sorretti da una struttura di travi che poggiava su fondazioni di pietra. Dopo i frequenti incendi che colpivano la città, le abitazioni venivano ricostruite sulle medesime fondamenta. Per le coperture si utilizzavano zolle erbose, canne o legno. I ricchi mercanti abitavano nei pressi delle mura della città, gli artigiani e i pescatori nei vicoli del porto.